Ehi ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Il mio nome è come sempre Crash E oggi siamo di nuovo su Borderlands 2 Ragazzi, prima di partire Prima di tutto vi faccio vedere che Praticamente ho l'inventario nuovo Si, perchè ho fatto delle casse oro Che praticamente ti danno Le 5 chiavi o 10 chiavi Mi sembrano 10, infatti non ne ho alcune Ti danno 10 chiavi con Un DLC che non mi ricordo quale sia Di partenza Ogni volta che crea un personaggio I radici chiavi, questa è una cosa bellissima Ragazzi, oltre questo Ho preso tutte le missioni Secondarie E ho deciso di saltarvele, per il semplice motivo Che alcune missioni secondarie sono Veramente, veramente noiose Ci si vede direttamente alla missione principale Ok, io ho detto che Avrei registrato solo la missione primaria Ma, uccidi gli altri Grossi peti Lui ha detto grossi peti Ma sono grossi peti Grossi peti Già Ok ragazzi Sono tipo esausto Perchè a mezz'ora che faccio missioni secondarie Infatti ho pure preso il livello E l'ho messo Non l'ho messo nemmeno Ora l'ho messo Perfetto Madonna Continuiamo Guardate che bello Death trap Con le kelle dietro Tutto figo Aspetta Muori Ok Vamos Spetti 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 Non ci arrivo Eh però Ok Ok Eccoci qua Facciamo una cosa Si sa mai Qua ricarica A posto Kabum Kabum Ma stasino a Voot Con una pistola Ragazzi E' una missione secondaria Ma siccome E' unito alla primaria Perchè Praticamente C'è anche la primaria Qua A sto punto Ho detto Facciamola assieme E poi è pure bella Quindi Shish Shalala Shalala Ok Piano Con calma Facciamo fuori St'assassino Dai No Non morire Ok Scusate Non l'ho registrato Mentre ammazzavo Quello col cecchino Chiedo scusa Però questo qua L'ho registrato Giuro Promesso Madonna Con quelle cattivelle Le ho fatti saltare In aria Eccolo Vorrei evitare Di farmi toccare Aspettiamo Che torni Death Trap A dopo Ragazzi Ho tolto pure Lo scudo Per ucciderlo Sono pazzo Ecco Vapre per quello Intendevo Vieni qua Muori 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 Ok Ce l'abbiamo fatta Rimettiamoci lo scudo Che è angosciante Senza Ah Da 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 Ha 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 6 i vari ricarica perché una canna non basta e due sono troppo poche ok ok ragazzi mi sbagliavo non è collegato con la missione primaria però ci siamo fatti due risate no adesso vado a consegnare tutte le missioni secondarie e ci ritroviamo alla primaria che schifo ok ok ragazzi sono quasi livello 12 quindi perfetto e adesso stiamo andando a frostbarn canyon a prendere non so cosa a caccia di acquida di fuoco giusto 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 ragazzi io chiedo scusa purtroppo devo fermare qui il video perché c'è il pc che mi sta dando alcuni problemi e mi hanno chiamato per andare a fare alcune cosette quindi purtroppo non posso continuare a registrare e dopo purtroppo non ho il tempo di montare quindi preferisco chiudere il video così e continuare domani tranquillamente credo di nuovo con border non so forse porterò anche un'altra cosa che ho già in mente e già ci stavo un po' pensando ma non ve lo avrò a dire a voi perché sarà una sorpresa se tutto va bene spero che vi sia piaciuto come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace un commento se vi va sempre se no scialla ma soprattutto iscrivetevi al canale scialla ragazzi grazie 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 grazie